benvenuti su clodiomasci.com riprendiamo la lezione su webnode con il tutorial su come creare una landing page quindi andiamo su modifica sito e andiamo a creare una landing page per la nostra pizzeria quindi andiamo su pagina, creiamo subito una nuova pagina possiamo già scegliere se c'è un template, un modello adatto a quello che vogliamo creare nel video precedente avevo detto che avrei fatto una landing page sul piatto di pasta ma ovviamente essendo una pizzeria facciamo una landing su una pizza tra i vari modelli che sono presenti diciamo che i primi non sono molto adatti potrebbe andare bene due colonne o tre colonne ma visto che non sappiamo ancora bene qual è l'aspetto che vogliamo dare alla nostra landing scegliamo una pagina vuota diciamo che nonostante io abbia appena detto che non sappiamo qual è l'aspetto che vogliamo dare è sempre meglio invece prepararsi prima un'idea, una bozza di quello che vogliamo realizzare se avete conoscenze di grafica quindi magari sapete usare photoshop o strumenti simili potete preparare una bozza con quello strumento ad esempio anche con canva in alternativa potete anche preparare una bozza su carta quindi semplicemente disegnarvi una struttura che non deve essere ovviamente proprio precisissima disegnata benissimo ma giusto per avere l'idea di che cosa andare ad inserire all'interno della pagina questo vi farà risparmiare tantissimo tempo poi quando andrete a creare la pagina stessa quindi andando avanti stiamo creando la nostra landing io ho scaricato delle foto da pexel quindi per utilizzarle per non usare le solite foto di web node e in base alle foto trovate ho deciso di chiamare la landing pizza con tutto quindi questa è la landing della nostra pizza quindi in questa pagina andiamo a sponsorizzare solamente in particolare questa particolare pizza iniziamo subito andando ad impostare l'intestazione della pagina diciamo che per questa landing per questo tipo di pagina potremmo non aver bisogno di un contenuto iniziale quindi possiamo anche scegliere solo barra del menu ovviamente questo poi lo decidiamo di volta in volta quindi potrei anche scegliere barra di menu col titolo o inserire già un contenuto nel mio caso preferisco fare una landing molto semplice quindi abbiamo il menu in alto e poi parte subito il contenuto volendo possiamo già dare un colore diverso alla barra del menu alla barra aggiuntiva lasciamo tutto così com'è disattiviamo menu statico non mi ricordo perché lo avevo attivato e iniziamo quindi a inserire il nostro contenuto per cominciare abbiamo già una sezione vediamo come viene la sezione aggiungendo una foto come sfondo quindi andiamo sulle mie immagini e andiamo a caricare le nostre immagini quindi seleziono tutte le immagini che ho scaricato da pexel e le vado a caricare aspettiamo che finisca il caricamento sono abbastanza grandi le immagini quindi potrebbero richiedere un po' di tempo aspettiamo che la barra blu sparisca da tutte le immagini una volta caricate abbiamo anche un ingranaggio che ci permette poi di andarle a rimuovere nel caso in cui non ci dovessero servire più questo è utile soprattutto quando abbiamo poco spazio sul sito web quindi se delle immagini non le utilizziamo conviene eliminarle piuttosto che tenerle nella galleria inutilizzate manca l'ultima ok quindi selezioniamo la foto della pizza che possiamo già vedere che c'è veramente di tutto sopra quindi il motivo per cui ho deciso di chiamarla così è perché alcuni ingredienti non li ho neanche capiti quindi li ho messi un po' a caso quindi abbiamo la pizza con tutto andiamo a vedere un po' di effetti di sfondo per quanto riguarda la posizione può andare bene questa impostata direttamente da webnode abbiamo una sovrapposizione colore scura vediamo possiamo togliere la sovrapposizione colore quindi lasciare la foto in chiaro ma in questo modo il testo risulterà un po' più difficile da leggere possiamo scurirla leggermente o possiamo assegnare poi dei colori vediamo questo io andrei con questo un po' più scuro quindi andiamo a scurire leggermente la foto questo probabilmente è un po' troppo anche se diciamo che ci può stare quindi mettiamo proprio questa sovrapposizione scura l'animazione passiamo a parallasse invece che scrolling in questo modo l'immagine cioè il contenuto del sito andrà a scorrere sopra all'immagine quindi abbiamo pizza con tutto togliamo temporaneamente il testo e andiamo ad inserire un contenuto inseriamo un nuovo testo separato la nostra pizza con tutto contiene tutti gli ingredienti che puoi volere in una pizza non mancherà nulla diciamo che ovviamente la descrizione andrebbe studiata un po' meglio troverai tutti i sapori in un'unica pizza ok diciamo che la descrizione della nostra pizza è questa possiamo inserire una nuova immagine andiamo su gallerie immagini e inseriamo nuovamente l'immagine nella nostra pizza con tutto la affianchiamo ok possiamo andare a regolare diciamo che possiamo mettere immagine originale nel caso di un click e abbiamo quindi qui il testo generalmente consiglio di allinearli in modo che magari il testo abbia la stessa lunghezza la stessa grandezza dell'immagine ma giusto per una scelta grafica non per motivi particolari cioè così potrebbe andare benissimo diciamo che possiamo mettere ad esempio pizza con tutto in grassetto ok e vediamo come viene anche cambiando colore tutto questo sempre per per comunque esercitarci magari un po' più chiaro per esercitarci nel fare le varie modifiche quindi stiamo rivedendo un po' tutti gli strumenti di webnode facendo questa landing quindi la nostra pizza con tutto contiene tutti gli ingredienti che puoi volere in una pizza non mancherà nulla troverai tutti i sapori in un'unica pizza ripetuto due volte va bene è una è un modello giusto per provare quindi ovviamente non importa che il testo non sia perfetto ma ovviamente se state preparando una landing page reale fate più attenzione al testo ovviamente evitate ripetizioni utilizzate magari delle frasi più ad effetto delle frasi comunque che descrivano meglio quello che state cercando di pubblicizzare aggiungiamo anche provala e non resterai deluso in offerta per i primi 100 ordini questo possiamo metterlo ad esempio in grassetto e centrato possiamo aggiungere uno spazio in modo da mandarlo un po' più a capo oppure possiamo cancellare questo e mettere un blocco di testo extra quindi in offerta per i primi 100 ordini grassetto e centrato e volendo possiamo aggiungere uno spazio che possiamo poi andare a ridurre in modo da far finire il testo affiancato all'immagine andiamo con il secondo blocco quindi qui possiamo inserire ad esempio gli ingredienti quindi ho scaricato delle immagini che potrebbero essere i vari ingredienti della nostra pizza e inseriamo quindi un blocco testo e immagine ok quindi sostituiamo ovviamente l'immagine che non c'entra assolutamente nulla con i primi ingredienti andiamo con peperoni quindi i migliori peperoni la nostra pizza con tutto è fatta solo con i migliori peperoni raccolti direttamente da noi nel prato del vicino potrai scegliere personalmente il colore dei peperoni dai diciamo che come descrizione può andare questa è quindi la prima il primo ingrediente quindi andiamo iniziamo con l'elenco degli ingredienti che contiene la pizza ovviamente nel caso in cui stiamo promuovendo un prodotto andremo a scriverne quali sono le qualità quali sono le proprietà quali sono ad esempio in questo caso gli ingredienti nel caso in cui stiamo promuovendo un servizio andremo a scrivere quali sono le offerte del servizio quindi perché scegliere noi perché quindi utilizzare il nostro servizio piuttosto che un altro quindi in una landing è utile inserire tutte le informazioni che possono essere utili all'utente quindi in questo caso noi vogliamo vendergli la pizza con tutto e lo stiamo convincendo del motivo per cui dovrebbe prenderla quindi gli abbiamo già detto che troverà tutti i sapori uniti in un'unica pizza quindi gli stiamo dicendo che ci sono i migliori peperoni andiamo ad aggiungere una nuova sezione con testo e immagine quindi continuiamo sostituiamo ancora l'immagine con le olive sfondo della sezione magari gli diamo un colore questo potrebbe le migliori olive greche provale so greche ci aggiungiamo per una citazione la nostra pizza con tutto anzi sulla nostra pizza con tutto non potevano mancare le olive tutte raccolte singolarmente a mano da noi una cosa che si potrebbe fare è alternare immagine e testo rispetto alla alla sezione precedente quindi se in una sezione abbiamo messo immagine e poi testo nella sezione successiva potremmo mettere testo e poi immagini proseguiamo quindi ancora testo e immagine andiamo a modificare sostituisci qui andiamo a inserire il basilico non ho inserito i link possiamo mettere sempre il link all'immagine originale in questo modo possono sempre vedere l'immagine ingrandita volendo possiamo anche non mettere nessun link quindi lasciare nessun collegamento il basilico su ogni pizza che si rispetti non può mancare il basilico quindi anche la nostra pizza con tutto ha la sua dose di basilico ancora una volta visto che stiamo pubblicizzando un prodotto mettiamolo in evidenza ti aspetteresti che anche in questo caso sia stato raccolto a mano da noi ma lo abbiamo comprato al supermercato e questo è il nostro terzo anzi secondo abbiamo l'intestazione quindi la parte principale con la descrizione poi abbiamo ah no era giusto il terzo ingrediente non era il secondo quindi abbiamo tre ingredienti proseguiamo ancora testo immagine modifica sostituiamo abbiamo inserito ci mancano ancora tre elementi la zucca perché credo che questa arancione sia zucca potrei sbagliare ma diciamo che è zucca diamogli uno sfondo colorato l'arancione può andare bene ancora una volta invertiamo le migliori zucche raccolte tutte ad Halloween e conservate per tutto l'anno saranno ancora fresche dopo sei mesi vieni a scoprirlo provando la nostra pizza con tutto mettiamo le migliori zucche di Halloween e questo è la quarta sezione continuiamo quindi andiamo su testo immagine personalmente vi consiglio di non utilizzare troppi colori quindi in questo caso abbiamo utilizzato una sezione grigia diciamo sul beige e un arancione spezzate da delle sezioni bianche vi consiglio di utilizzare il bianco per spezzare le varie sezioni e soprattutto se sono tante non utilizzate tantissimi colori e soprattutto non utilizzate colori troppo lontani tra di loro quindi ad esempio io sono andato su un colore abbastanza spento diciamo che abbiamo delle tonalità autunnali possono essere considerate tutte tonalità autunnali possiamo mantenere questo stile ovviamente se avessi messo uno sfondo blu uno sfondo verde uno rosso avrei creato troppo diciamo casino visivo quindi avrei creato un sito che dà fastidio alla vista quindi cercate comunque di non usare prima di tutto colori troppo accesi in questo caso potrebbe sembrarlo ma comunque è abbastanza opaco quindi evitate colori troppo luminosi troppo accesi e evitate proprio di mischiare troppi colori quindi siamo alle zucche andiamo avanti ci restano gli ultimi due mettiamo i formaggi la nostra pizza con tutto non si fa mancare proprio niente infatti troverai un mix di formaggi a caso i formaggi utilizzati sono quelli che ci avanzano dalle altre pizze quindi ogni pizza avrà un mix di formaggi unico ogni pizza con tutto è speciale perché potrebbe essere l'unica ad avere quella combinazione di ingredienti ricordiamoci sempre di mettere in evidenza quello che stiamo pubblicizzando in questa landing page lo abbiamo scritto due volte evidenziamolo entrambe le volte volendo possiamo in questo caso evidenziarlo magari pure con un colore quindi andiamo sempre con l'arancione e ci manca l'ultimo ingrediente quindi ancora testo e immagine e l'ultimo ingrediente era i semi semi dal mondo vorremmo dirti anche quali semi troverai sulla nostra pizza con tutto ma non lo sappiamo neanche noi ci arrivano semi da tutto il mondo e non sappiamo cosa farne quindi li mettiamo sulla tua pizza quindi ancora una volta pizza con tutto grassetto invertiamo immagine e testo e andiamo a dargli un colore di sfondo in questo caso come ho anticipato è meglio non andare aggiungendo troppi colori diversi tra loro quindi o riutilizziamo un colore già utilizzato prima qui ci da un set di colori che potremmo utilizzare potremmo anche utilizzare magari uno di questi motivi personalmente quello che mi piace fare è mantenere uno stile grafico lineare quindi se ho utilizzato un colore magari poi ne utilizzo un altro poi ritorno a questo nel caso successivo ritornerei su questo arancione quindi non utilizzerei più di due colori anche perché poi abbiamo comunque altri colori in alto abbiamo tantissimi colori quindi veramente diventerebbe troppo colorata la cosa quindi direi di riutilizzare quindi lo stesso utilizzato per le olive abbiamo inserito tutti i nostri ingredienti quindi al momento dovremmo aver convinto il potenziale acquirente che la nostra pizza con tutto è fantastica andiamo a colorare però pizza con tutto con arancione ok quindi lo abbiamo convinto visto che gli ingredienti anche qui grassetto mettiamo anche qui arancione qui uguale quindi sempre arancione qui già è fatto dovremmo averlo evidenziato qui non l'ho messo in arancione quindi andiamo a dargli un colore arancione anche qui dovremmo averlo evidenziato ovunque qui non ha senso scriverlo in arancione visto che lo sfondo è arancione ok abbiamo dato tutte le informazioni che servivano al visitatore al possibile acquirente la landing page deve avere sempre uno scopo cioè portare chi visita la pagina a compiere un'azione quindi c'è sempre una call to action quindi un invito a eseguire un'azione nel nostro caso può essere ad esempio ordinare una pizza a domicilio oppure prenotare un un tavolo alla nostra pizzeria nel caso dei servizi può essere contattarci per richiedere informazioni sul servizio pure per la pizza potrebbe essere contattarci per richiedere informazioni quindi è fondamentale che una landing page abbia sempre una call to action quindi che ci sia sempre un invito a fare qualcosa verso l'utente cioè l'utente deve essere sempre spinto a fare qualcosa dopo aver letto le informazioni non deve essere solamente una pagina informativa quindi gli abbiamo dato tutte le informazioni adesso vediamo se abbiamo già il form di contatto non lo vedo al momento non c'è quindi andiamo su vuoto e andiamo a scrivere ordina ora la tua pizza con tutto avevamo scritto in offerta per i primi 100 ordini quindi la nostra pizza con tutto è ancora in offerta non perdere l'occasione di provarla ad un prezzo speciale ordinala subito subito ok quindi abbiamo inserito il testo inseriamo il modulo di contatto quindi modulo contatti nome email messaggio ok vediamo che cosa ci può interessare vogliamo che ordinino subito la nostra pizza quindi il nome va bene più che l'email magari ci può interessare il numero di telefono quindi l'email l'andiamo a rimuovere in questo caso non ci serve quindi nome numero di telefono potremmo magari inserire vediamo un testo breve con indirizzo di consegna potremmo inserire un menu a tendina e in questo caso mettere ad esempio gli orari di consegna ora non li andrò ad inserire tutti diciamo che la nostra pizzeria consegna solo la sera quindi mettiamo ad esempio 19 19 e 30 20 20 e 30 21 21 e 30 22 22 e 30 e basta cioè se lo voglio o non la possono ordinare in una di queste fasce orarie e inseriamo orario di consegna al posto di messaggio possiamo mettere richieste particolari scrivi se hai allergie o vuoi vuoi qualche ingrediente extra diciamo che ovviamente questo è solo un esempio possiamo utilizzare informazioni diverse possiamo ovviamente inserire quelle che ci interessano realmente non è detto che sia questo il modulo di contatto che vogliamo ovviamente in contatto email andiamo a inserire il nostro indirizzo email quindi inseriamo l'indirizzo email premiamo invio azione successiva grazie per aver ordinato la tua pizza con tutto ti telefoneremo per confermare il tuo ordine ok può bastare questo messaggio quindi abbiamo inserito l'informazione sulla sul contenuto del prodotto o del servizio che stiamo offrendo quindi servizio informazioni principali quindi descrizione base del servizio o del prodotto i dettagli quindi siamo andati ad approfondire nel dettaglio che cosa stiamo offrendo e alla fine abbiamo offerto al visitatore la possibilità di eseguire un'azione quindi compiere un'azione e in questo caso invece di invia prenota vediamo se avevamo anche arancione possiamo utilizzare il tasto con un colore un po' più adatto alla pagina quindi abbiamo chiesto dopo aver fornito tutta l'informazione all'utente gli abbiamo dato la possibilità ovviamente di contattarci che è quello che vogliamo l'obiettivo di questa pagina è far ordinare la pizza quindi come detto l'elemento finale della pagina deve contenere un invito all'azione nel nostro caso era ricevere una prenotazione un ordine della pizza potremmo inserire un tasto quindi non non un intero modulo ma potremmo mettere semplicemente un bottone con ad esempio per farci telefonare potremmo scrivere tel due punti più 39 e il nostro numero di telefono in questo modo e chiamarlo ad esempio chiamaci ora in questo modo da cellulare chi clicca su questo tasto farà partire una telefonata diretta al nostro numero di telefono oppure ancora possiamo inserire mail tu due punti info chiocciola la mia pizzeria punto com e in questo modo inviaci una un'email in questo modo chi clicca qui ovviamente avvierà il suo programma di posta elettronica predefinito e ci invierà un'email ancora possiamo aggiungere un link di whatsapp quindi https due punti slash slash va punto me slash più 39 ovviamente il prefisso dell'Italia anche qui il nostro numero di telefono contattaci su whatsapp in questo modo cliccando qui si aprirà whatsapp e si aprirà una chat con noi su whatsapp quindi potranno scriverci direttamente su whatsapp in questo modo gli offriamo diverse possibilità ovviamente abbiamo anche la possibilità di mandarli ad esempio sulla nostra pagina instagram https due punti slash slash www.instagram.com slash la mia pizzeria diciamo che se fosse questo il link della nostra pagina instagram seguici su instagram ok possiamo aggiungere tantissime call to action in base a quello che vogliamo ottenere ovviamente possiamo affiancare i tasti vediamo se riusciamo a affiancarli tutti e quattro ok vediamo se con scrivici perfetto ok quindi in questo modo abbiamo dato quattro scelte possiamo volendo aggiungere vediamo una linea che va a separare maggiormente il modulo dai tasti inferiori quindi abbiamo una call to action più altre quattro generalmente è sconsigliato utilizzare tutte queste call to action perché vanno solamente a confondere l'utente quindi cerchiamo di dare una massimo due scelte in questo modo può scegliere se compiere questa o quest'altra azione in questo caso abbiamo un modulo abbiamo la possibilità di chiamare di scrivere su whatsapp di seguire su instagram inviare un email comincia a essere un po' troppo confusionario magari disperdiamo poi gli utenti quindi cerchiamo di indirizzarli verso uno o al massimo due canali quindi ad esempio potremmo avere il modulo di contatto e il tasto per whatsapp in questo modo hanno modo di contattarci via email quindi modulo che ci invia un email oppure whatsapp oppure possiamo togliere completamente il modulo e dare la possibilità di chiamarci o di scriverci su whatsapp quindi dare solamente due scelte e non più di due andiamo a questo punto su pagina abbiamo creato la nostra pizza con tutto ma come detto è una landing page quindi non andrà nel menu quindi togliamola dal menu andiamo su impostazioni seo titolo pagina possiamo chiamare pizza con tutto inseriamo inseriamo anche il nome della pizzeria quindi la mia pizzeria trattino pizza con tutto il link della pagina può andare bene meta descrizione questa può essere utile perché descrive il contenuto della pagina la famosa pizza con tutto specialità della nostra pizzeria la puoi trovare solo da la mia pizzeria inseriamo un po' di parole chiave ad esempio pizza con tutto virgola la mia pizzeria pizza speciale specialità pizze inseriamo quindi una decina di parole chiave tutte separate dalla virgola non è importante quante parole contenga ogni parola chiave quindi non deve essere una sola parola può essere una frase quindi pizza con tutto è una parola chiave la mia pizzeria è una parola chiave pizza speciale è una parola chiave specialità pizze è una parola chiave pizze potrebbe essere una parola chiave è un po' troppo generica quindi in questo caso sconsiglio di utilizzarla oppure pizza sconsiglio di utilizzarla perché è troppo generica i due codici possiamo lasciarli vuoti e possiamo scegliere se nascondere o mostrare questa pagina ai motori di ricerca questo è indifferente diciamo che se attiviamo questa pagina non andrà sui motori di ricerca questo significa che la pagina potrà vederla solamente chi ha il link quindi se ad esempio è una pagina con un'offerta speciale che vogliamo fare ad esempio solo agli iscritti alla nostra pagina Instagram alla nostra pagina social in generale possiamo nasconderla dai motori di ricerca quindi non verrà trovata sui motori di ricerca e potrà vedere questa pagina solamente chi riceve il link quindi questo si può fare ad esempio per offerte limitate che vogliamo che comunque non vengano viste da troppe persone altrimenti se vogliamo che venga comunque pure indicizzata sui motori di ricerca e quindi venga trovata da più persone possibile lasciamo disattivata questa opzione quindi non la non la andiamo a nascondere importante è invece nasconderla dal menu perché essendo una landing page non deve essere visibile nel menu nel contenuto del sito chiudiamo e andiamo a pubblicare il nostro sito a questo punto apriamo la nostra pagina ed ecco la landing page con della nostra pizza con tutto quindi raggiungibile al nostro sito slash pizza trattino con tutto quindi questo sarà il link che dovremo condividere poi con gli utenti che vogliono poi andare a che dovranno poi vedere la landing page quindi con i possibili acquirenti condividiamo questo link potranno vedere tutte le informazioni ovviamente le immagini abbiamo detto che le abbiamo rese cliccabili le ultime no arrivati a questo punto potranno scegliere un orario di consegna potranno inserire nome numero di telefono e cliccare su prenota per inviarci il messaggio oppure possono cliccare su chiamaci ora per chiamarci iscriverci su whatsapp seguirci su instagram o inviarci un email a questo punto la nostra landing è completa possiamo copiare il link della pagina e iniziare a condividerlo sui social a utilizzarlo nelle campagne di marketing quindi se stiamo facendo una campagna marketing anche sui social possiamo inserire il link di questa landing page e quindi portare gli utenti direttamente su questa pagina piuttosto che sulla home da cui magari poi devono andare ad esplorare tutto il sito invece magari se vogliamo pubblicizzare direttamente questa pagina inseriamo il link diretto e quindi andranno direttamente su questa pagina e potranno poi effettivamente ordinare interagire con la pagina ed eseguire l'operazione che noi abbiamo deciso che venga compiuta alla fine delle informazioni quindi dopo che gli abbiamo dato tutte queste informazioni siamo noi a scegliere che cosa vogliamo che faccia l'utente con questo abbiamo concluso questa lezione su webnode nella prossima come vi avevo anticipato ho visto che l'e-commerce possiamo crearlo anche con la versione gratuita ci saranno delle limitazioni probabilmente non ci farà pubblicare la pagina però vediamo come creare un e-commerce e come inserire alcuni prodotti poi il fatto che non ce lo faccia effettivamente fare questo è relativo perché ovviamente poi chi è interessato a utilizzare un e-commerce su webnode potrà acquistare una versione premium e poi andare ad attivare l'e-commerce però intanto noi possiamo vedere come fare per creare un e-commerce quindi per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao